1b L'Appennino Pistoiese è un'area particolarmente ricca in termini di biodiversità e presenta numerose specie di mammiferi. Tra i più comuni in cui ci possiamo imbattere c'è sicuramente la volpe, animale generalista e opportunista, presente fin nelle aree urbanizzate. Le volpi sono animali territoriali e costruiscono numerose tane. La principale viene utilizzata per il parto d'inverno e per la cura dei piccoli, mentre le altre come nascondiglio in caso di pericolo e come rimessa per gli alimenti. Le tane possono essere molto ampie e collegate da gallerie. In alcuni casi si può verificare la condivisione della tana con i tassi. Un po' come per il lupo, il destino della volpe si è sempre intersecato con quello dell'uomo, a causa delle frequenti razzie nei pollai. La volpe entra a far parte della tradizione culturale come simbolo di furbizia, perché riesce a sfuggire con maestria alle situazioni più difficili. È presente, inoltre, in numerose favole antiche, tra cui la celebre la volpe e l'uva di Esopo. Altra specie in cui è frequente imbattersi è lo scoiattolo rosso, roditore con una bellissima coda folta. Capita spesso di vederlo scorrazzare sul terreno, alla ricerca di cibo o sugli alberi. Si tratta di una specie abbondante sull'appennino pistoiese, localizzata soprattutto in foreste di conifere, abete bianco, abete rosso e pino nero. La dieta è infatti costituita principalmente da semi di conifere o da fagiole. In seguito all'introduzione dello scoiattolo grigio nordamericano in Italia, si è verificata la competizione fra la specie autoctona e quella importata. Lo scoiattolo grigio è infatti una specie invasiva e si adatta meglio alla vita nei boschi di latifoglie rispetto allo scoiattolo rosso. Lo scoiattolo grigio rappresenta quindi una delle principali minacce, insieme alla frammentazione delle aree boschive, per la conservazione dello scoiattolo europeo. Concludiamo questa prima parte con i mustelidi, famiglia di mammiferi carnivori, che comprende la faina, la donnola, la puzzola e la martora. Mentre le prime tre sono generalmente frequenti sull'appennino pistoiese, la martora è una specie elusiva di difficile individuazione ed ad oggi segnalata esclusivamente grazie a un cranio rinvenuto in località Cireglio e conservato presso il Museo di Storia Naturale di Firenze, sezione di zoologia La Specola, e a un esemplare morto trovato nel 2012 nella Valle del Reno. Come gli altri mustelidi, ha abitudini prevalentemente notturne e si sciba di piccoli vertebrati, come uccelli e mammiferi, a taglia praticamente identica a quella della faina, da cui si differenzia per la colorazione fulva e per la macchia giallo-arancio nell'area della gola. Una bella collezione di mustelidi tassidermizzati è conservata presso il Museo Naturalistico Archeologico al piano terra di Palazzo Achilli. La visita continua al piano superiore, a cui è possibile accedere salendo le scale. Grazie a tutti.